... Si riconosce con il Real Madrid che conduce la gara Ancora un tentativo di Niesta Daniel Alves Pique Abidal Prova ad andare in Niesta Sergio Busquets Pique Pugioi Pique Passaggio intercettato Possibile cambio di fronte Cerca uno spazio Kaká Iguai Usil Viene interrotta l'azione d'attacco Palla avversa Cristiano Ronaldo accelera Marcello Palla al piede Kaká Solo a corner Palla intercettata Palla intercettata O forse no O forse no Usil Kaká Iguain Raggiunge il compagno Palla dentro Kaká Abidal Ciavi, Iniesta, cerca di intervenire Scivolaita, Marcelo, Sergio Busquets, Pique, Abidal, Iniesta, Pujol, Ciavi, Lionel Messi, passaggio sbagliato da Messi. Ciavi, Marcelo, Xabi Alonso, passa la palla, tiro! Il pubblico rumoreggia per questa occasione sciupata malamente. Daniel Alves, e gli avversari riconquistano la palla, ecco i minuti di recupero, Cristiano Ronaldo, palla in aria, vanifica l'azione avversaria. Ciavi, Lionel Messi, David Guglia, Pedro, Iniesta, Ciavi, Lionel Messi, David Guglia. Ottimo intervento di Sergio Ramos. Eusil, e l'arbitro chiude qui il primo tempo. Speriamo che la partita si vivacizzi nel secondo tempo. Finutore in effetti si è visto ben poco Fabio. Grazie a tutti.